Da soli non si può, ti ho aspettato per farlo, vorrei Interpretare vocalmente il personaggio di Dorothy per me è stata una cosa bellissima perché ovviamente Dorothy e il mago di Oz hanno preso parte alla mia infanzia perché ho letto tante volte il libro da bambina, ho guardato tante volte il film che mi è piaciuto tantissimo, Judy Garland tra l'altro è un mito del canto e anche di questa canzone bellissima Somewhere Over the Rainbow e non lo so è stato davvero bello, devo dire che Dorothy è sempre stato un personaggio molto affascinante e fare finta tra virgolette di essere lei che racconta le sue esperienze tramite la musica è stata un'esperienza bellissima. Certamente si rivolgerà ai bambini che o già un pochino conoscono il mago di Oz perché i genitori gliel'hanno letto prima di andare a dormire però credo che in realtà sia rivolto anche al mondo degli adulti che secondo me sarà contento di rivedere questa fiaba appunto mitologica della loro infanzia di nuovo al cinema. Secondo me comunque la storia non è una storia per bambini nel suo significato profondo è una storia rivolta a ogni tipo di pubblico quindi secondo me in sala potremmo trovare sia adulti che bambini. E il mio Kansas è a Reggio Emilia ovviamente perché è la città dove sono nata, dove sono cresciuta e dove tuttora vivo e quella è casa mia e il mio regno di Oz è Roma forse perché è la città più bella del mondo.